che difende con la sua benda insanguinata contro Migliaccio, c'è Bresciano pronto a saltare calcio di punizione, mette fuori Sissoko, la palla è per Cassani Matteo Cassani, 3 a 2 con il sinistro che non è il suo piede mi viene in mente quello che è successo a Napoli, gli ha detto a Cassani non stai, voleva stare a destra, ha detto vieni qua, vieni da questa parte la palla è andata proprio lì e che gol ha fatto, ha lasciato andare la gamba molto bene nulla da fare per Buffon, un grandissimo gol c'è a Napoli nel senso Amsic che non doveva essere lì ed è andato lì e Cassani stessa cosa Ammonito Cassani guardate lo stop e poi parte questo sinistro con Buffon che non può vedere il pallone che si infila all'incrocio dei pali dopo il 2 a 2 della Juve dopo almeno 4 palle clamorose della Juve il Palermo che aveva sofferto trova il gol del 3 a 2 ma non è finita perché ci sarà molto recupero e allora la Juve deve buttarsi tutto in avanti Chiellini cerca il pallone in profondità per Ia Quinta poi a c'è fondamentale